Io prego il Padre per voi e darò il Consolatore che gli manca sempre in voi e li guidi nella carità. Questo è il mio comandamento che gli abbiate come io ho amato voi. Come io ho amato voi. Questo è il mio comandamento che gli abbiate come io ho amato voi. Grazie. Grazie.